vediamo solo che continui a registrare e così non si perde la parte più importante del corso forse a questo punto è che che sono le regole dell'esame ok quindi come avete visto da slack ieri mandato un messaggio a tutti abbiamo rivisto insieme i colleghi del corso in inglese le regole dell'esame che trovate sul solito sito del corso quindi queste sono le versioni e la versione aggiornata che non cambieremo più è quella prima era ancora un po provvisoria perché parlava di esami remoti eccetera è quello che era successo l'anno scorso che ovviamente non si applica più quest'anno abbiamo rivisto sul testo per renderlo un po più leggibile meno ambiguo in certi punti e così via sostanzialmente non è cambiato nulla tranne che l'esame salvo imprevisti per la parte orale sarà in presenza ok come come ci richiede il politecnico dico salvo imprevisti nel senso che come sapete quelli che che non possono perché sfortunatamente avranno preso il covido non lo so che altra giustificazione può essere adotta con la segreteria diciamo ce lo comunicheranno e poi la segreteria farà queste verifiche però diciamo tutti gli altri e dovranno venire al esame orale in presenza come funziona magari lo riassumo in due parole e noi circa 20 io ho detto tre settimane ma diciamo intorno a tre settimane prima del della pubblicazione del scusate della data dell'appello che dovrebbe essere mi sembra il 23 nel primo appello pubblichiamo il testo del esame e quindi è un progetto da svolgere come quelli che stiamo svolgendo noi insieme con react parte client e parte server ci sarà da accettare su github ci saranno poi delle istruzioni tecniche un po più diciamo dettagliate più o meno simili a quelle che avete già visto per il laboratorio quindi il meccanismo è lo stesso semplicemente non è a gruppi ma è singola no quindi ognuno deve fare il suo progetto il meccanismo di sottomissione simili c'è il tag final eccetera avete già avuto modo di fare pratica e lo facciamo anche per questo di avere questi big club da consegnare e quindi ci sarà da consegnare entro la data stabilita che la sera prima del giorno dell'appello questo progetto ok poi noi il giorno dopo raccogliamo tutti i progetti ci mettiamo lì li guardiamo e ci serve ovviamente qualche giorno soprattutto per i primi appelli perché di solito sono parecchio numerosi faceva una statistica per fare un po di stime l'altro giorno e probabilmente sarete più di cento al primo appello ok quindi questi numeri visto l'anno scorso l'anno scorso era un corso un po diverso perché era diviso in due eccetera però diciamo assumendo più o meno le stesse condizioni san più di cento quindi io il mio collega antonio servetti e guarderemo questi progetti che avete consegnato e daremo una valutazione ok fino a 24 per il progetto ok ah ecco prima che mi dimentichi mi raccomando se avete intenzione di sostenere l'esame dovete anche prenotarvi all'esame ok mi raccomando assolutamente indispensabile non vi costa nulla è solo un click sul portale la didattica se non siete sicuri piuttosto prenotatevi tanto prima dell'appello avete sempre la possibilità di sprenotarvi e poi a noi non cambia nulla nel senso che ci serve più che altro per avere un'idea di massima di quanti verranno per quell'appello anche perché poi contiamo solo le consegne effettive se non consegnate siete assenti finito non viene neanche scritto da nessuna parte quindi non vi costa nulla cosa prenotarvi ma ci serve appunto per fare un po di stima organizzare il lavoro soprattutto per i primi appelli ok quindi ci sono 24 punti per il progetto va bene il minimo e 12 ma diciamo che nella storia di questo corso perlomeno nella parte in italiano non è quasi mai successo che nessuno che qualcuno arrivasse non arrivasse a 12 perché insomma se l'avete consegnato pensate che ragionevolmente più o meno qualcosa funzioni no quindi insomma ok poi ci sarà l'orale opzionale nel senso che se visto il voto del progetto dite no io non voglio l'ho fatto male ho visto che mi è andato male eccetera voglio rifarlo non venite diciamo amici come prima e lo darete a un altro appello quindi farete un altro progetto di un altro appello se invece decide decidete di venire all'orale ci sarà appunto un orale che serve come come scritto più che altro ad assicurarci uno che l'abbiate fatto voi quindi che sappiate di cosa c'è scritto dentro che come avete organizzato il progetto che cosa che cosa fa il progetto sappiate spiegare le varie parti di codice soprattutto quelle magari che noi quando abbiamo guardato il progetto ci sono risultati un po più strane un po più curiose difficili diverse dal solito e così via quindi bisogna essere in grado di giustificare le scelte fatte che non vuol dire che qualsiasi giustificazione date va bene no però perché diciamo ci sono delle come dire delle cose che saranno richieste nelle specifiche che devono essere in qualche modo implementate e non basta dire io ho pensato di fare diverso non si può pensare di fare diverso rispetto alle specifiche però magari ci sono scelte implementative c'è qualcuno che decide di caricare i dati in un momento un altro momento ci sono dei meccanismi diciamo con le use effect per esempio che vedremo stamattina in cui uno carica se cambia qualche parametro o qualche properties eccetera bisogna sempre spiegare queste cose e come è stato organizzato diciamo tutto il meccanismo diciamo dell'applicazione ho fatto un esempio e non solo le use effect ma diciamo le use effect di solito sono la cosa più interessante quindi molto spesso si ricade lì quando quando c'è da discutere qualcosa però ci sarà anche un pezzo di parte server e così via se decidete di venire all'orale il voto finale non può essere rifiutato questo l'abbiamo deciso quando abbiamo iniziato a fare questo corso ormai due anni fa non ci sono stati tanti problemi a riguardo anzi direi nessuno lo sapete certo ecco se prendete diciamo 18 del progetto su 24 è chiaro che non vi potete aspettare di prendere un gran voto ecco quindi per questo bisogna pensarci prima di venire all'orale se se una cosa di quel tipo può andar bene oppure no ok quindi ci sono fino a sei punti per la discussione orale e poi in più ci sono i punti del big lab se l'avete fatto che sono assegnati al gruppo quindi ognuno ha i suoi che sono due punti un punto quanto prendete in totale tra il primo e il secondo big lab che verranno aggiunti ok quindi si può diciamo in teoria arrivare fino a 32 ok il big lab i big lab durano per tutto l'anno ok fino all'inizio della prossima edizione del corso quindi diciamo fino a marzo 2023 quindi se voi date provate a fare il progetto adesso a giugno rinunciate non lo consegno oppure lo consegno visto il voto non mi piace lo rifaccio venite a luglio non vi va di nuovo bene venite a settembre eccetera il big lab ce l'avete sempre fino fino a che non ricominciamo un'altra edizione del corso e quindi non avete lasciato passare un anno intero quindi non va niente perso ok è chiaro che comunque siccome il voto finale dell'orale non si può rifiutare nel momento in cui venite all'orale portate dietro anche il big lab e comunque prenderete un voto a meno che non veniate bocciati all'orale ma diciamo che non non è mai successo nella storia di questo corso perlomeno nella versione in italiano ok perché diciamo non è mai successo che abbia trovato qualcuno che non sapeva quello che era stato fatto nel progetto no perché poi sostanzialmente quello il ciò che fondamentalmente può portare alla bocciatura non sai spiegare cosa è stato fatto da nessuna parte per niente e quindi insomma sospettiamo ragionevolmente che non sia stato fatto dallo studente ok ecco non è accettabile che le soluzioni sottomesse siano eccessivamente simili tra loro nel senso che ognuno di voi deve lavorare per conto proprio è chiaro che ci saranno delle somiglianze perché in questo in questo corso siete 190 iscritti in prima frequenza ok quindi chiaro che cioè se c'è da usare una use effect per caricare dei dati al server quasi tutti avranno usato la use effect in una maniera o nell'altra per caricare i dati al server questo è normale no però diciamo che ci sono delle normali variazioni tra una consegna e un'altra è che fanno sì che insomma i progetti siano ragionevolmente differenti ecco un po più simili un po diversi però cercate di farlo il più possibile per conto proprio ok poi chiaro che se non lo so c'è una cosa c'è da gestire una data un qualcosa e non so in molti hanno cercato su internet in tanti hanno trovato la stessa meccanismo ci sarà una decina ventina di persone che magari per quella specifica cosa hanno usato quella quell'approccio però per altre cose avranno cambiato avranno fatto diverso e così via i controlli fatti lato server sono diversi la validazione qualcuno avrà validato di più di meno quindi ci sono normali variazioni se lo fate per conto vostro non dovete preoccuparvi di questo aspetto ok quindi diciamo che questo è solo un avvertimento non copiatelo da vostro collega vostro collega ma di nuovo anche qui oramai abbiamo un po di storia nel corso due anni non non c'è mai successo di dover annullare nessun progetto per questo motivo per cui non c'è da preoccuparsi ecco mi raccomando solo alle rale ripassate un po il codice prima di venire all'orale perché è necessario saper spiegare le cose senza dire qui l'abbiamo tolto perché i miei colleghi non piaceva però c'era scritto diciamo non è che potete dire l'ho fatto due settimane fa non mi ricordo più aspetti dove andare a pensare cosa avevo fatto cosa ho messo perché non è che da una bella impressione oltre al fatto che si perde tempo eccetera eccetera e che se poi non trovate il punto ai punti insomma diventa un po la valutazione chiaramente ne risente ci sono poi tutta una serie di indicazioni più tecniche che vi potete leggere per conto vostro ovviamente diciamo bisogna sviluppare progetto con react con express lato server e con sqlite come database system e secondo le specifiche che verranno indicate che sono poi le stesse che trovate nei temi dell'anno precedente quindi se voi andate qui in cima al corso c'è 19 20 20 21 forse prendete 20 21 è meglio c'è il sito dell'anno scorso ci sono i temi di esame dati l'anno scorso quindi potete già tranquillamente farvi un'idea anche come vi ho detto dall'inizio del corso ci sarà una fase iniziale dopo un po di giorni che abbiamo pubblicato il testo del del progetto nella quale ci dedicheremo a rispondere un po delle domande e dubbi che inevitabilmente sorgeranno nel momento in cui leggete il testo e ci saranno dei punti magari non chiari non ben specificati e così via di solito facciamo in questa maniera ossia dopo che il testo è stato pubblicato diamo non so una settimana più o meno in maniera che tutti possano leggerselo diciamo studiarselo guardarselo con calma e così via vengono fuori dei dubbi e domande ovviamente neanche noi siamo perfetti e quindi qualcosa effettivamente non l'avremo ben specificato e generalmente dopo quella settimana pubblichiamo una versione leggermente aggiustata di quel testo del progetto in cui vengono chiariti alcuni dubbi e alcuni aspetti che erano rimasti non chiari anche a noi inizialmente sembravano sufficientemente chiari ma chiaramente stanno nella nostra testa e per chi legge che non ha mai visto il testo possono essere non chiare quindi faremo questo testo leggermente modificato non stravolto è assolutamente però magari c'era un aspetto in cui non si sapeva se le cose dovevano non so essere modificabili o no c'era informazione che doveva stare sul server o no non era ben chiaro e così via e cose di questo tipo chiariamo questi punti che ci sembra importante chiarire nel testo evidenzieremo in rosso nel testo i punti modificati in genere sono pochi è perché cerchiamo di guardarlo con ben attenzione per cui diciamo magari sono due o tre punti in cui c'è una frasetta leggermente modificata e così via quindi questo per quanto riguarda il testo del progetto c'è la possibilità di fare domande tendenzialmente usando slack apriremo un canale apposta per ogni tema d'esame quindi per ogni appello in maniera che teniamo separate diciamo le cose dei vari appelli e non creiamo troppo pasticcio diciamo nelle nelle chat e quindi non useremo discussion usiamo poi un canale apposta creato per ogni appello in maniera che tra l'altro così vi resti anche la storia basta andare in su e vedrete le risposte che diamo a tutti quelli che fanno domande e quindi diciamo anche sulla base di quello potete potete regolarvi nella vostra implementazione cerchiamo di lasciare abbastanza libertà per cui ci sarà un po di discrezionalità nell'implementazione soprattutto dell'interfaccia a meno che non ci sia scritto questo deve essere implementato proprio in questa maniera con una lista con un non so una menu a tendina eccetera eccetera diciamo ognuno ha abbastanza libertà nell'implementazione l'interfaccia e del meccanismo di funzionamento dell'applicazione perché anche quello è un po oggetto di valutazione e poi ci consente di avere delle consegne diverse perché più cose specifichiamo e più poi le consegne ovviamente tendono a diventare uguali le regole dell'esame come avete visto sono scritte in inglese se avete dei dubbi di interpretazione su queste regole chiedetemi magari lo scrivete anche su discussion sullo slack così resta anche la mia risposta altrimenti se non volete insomma me lo dite le ho lasciate in inglese apposta perché così tutti i corsi hanno lo stesso hanno le stesse identiche regole non ci sono discussioni l'italiano era più facile se l'inglese diverso eccetera il tema d'esame invece sarà tradotto in italiano ok perché mi sembra anche giusto avete scelto il corso in italiano le specifiche saranno tradotte in italiano per il corso in inglese saranno in inglese saranno invece quelle del corso in italiano saranno tradotte in italiano ovviamente col testo equivalente salve errori una volta su in due anni mi è capitato di tradurre male una parola però poi appunto nella o di interpretare male il pensiero dei colleghi nella correzione una settimana dopo poi aggiustato questa cosa che era leggermente diversa dal testo in inglese quindi non c'è nessuna diversità nell'aver seguito corso italiano corso inglese che anche ci sembra diciamo giusto dal punto di vista vostro ecco direi che non ho altro da dire appunto ci saranno delle indicazioni più tecniche su come consegnare ma saranno fondamentalmente uguali a quelle dell'anno precedente quindi se voi andate a vedere cosa c'era l'anno precedente no quindi c'è tutto il meccanismo per la consegna sul github eccetera il tag final che è fondamentalmente uguale a quello del laboratorio e poi in ogni tema d'esame ci sono delle indicazioni su cosa deve essere fatto nel progetto quindi oltre al testo del come funziona l'applicazione richiesta deve essere implementata come single page application node più express per il server react sqlite eccetera questi non sono solo nostri pallini ma ci facilitano molto la correzione perché se ognuno di voi si mettesse a usare il modulo che vuole per il server il modulo che vuole per il db eccetera ci mettiamo 10 minuti solo a far partire il meccanismo quindi niente di particolare ecco ci sono poi delle piccole cose dipendenti da ogni testo che specificano che cosa deve essere incluso in ogni progetto per esempio ci saranno gli utenti bisogna che ci siano almeno due o tre utenti un amministratore o qualcosa scrivendo la password che non dobbiamo andarcela a sognare perché poi non è in chiaro nel db e così via e quindi tutte queste cose devono essere poi incluse in un file ritmi che è simile a quello che già state facendo per il big lab 2 dove lì state mettendo solo le API forse anche le root adesso non mi ricordo più ci sarà qualche indicazione in più è che ci serve per capire come avete organizzato l'applicazione io quando corrego il progetto non ci siete voi perché l'orale viene dopo e anche il mio collega è Servetti prima cosa apriamo il file ritmi perché ci facciamo un'idea di come avete organizzato l'applicazione da cosa? dalle root, dalle API, dalle tabelle del db ci sarà da includere uno screenshot giusto per essere sicuri che stiamo caricando il progetto come l'avete pensato voi che non ci siano problemi di caricamento cose di questo tipo e poi altri aspetti tipicamente username e password perché ci sarà un pezzettino di autenticazione che facciamo la prossima volta e così via da iscriversi eccetera eccetera e qui c'è tutto il meccanismo ma è il solito meccanismo del tag tag final per dire voglio consegnare ok ecco ultimissima cosa mano a mano che parlo così mi ricordo quando venite all'orale non dovete preoccuparvi di avere il computer con il progetto che gira eccetera avremmo noi i vostri progetti li apriamo noi viene da dire anche teniamo il mouse noi nel senso che apriamo noi i file che servono e su cui vogliamo fare delle domande anche perché noi i progetti li abbiamo già visti e ci siamo già notati diciamo i punti che riteniamo più interessanti da discutere soprattutto se qualcuno ha fatto un'implementazione un po' diversa dagli altri o c'è un malfunzionamento andiamo a vederlo e cerchiamo di capire insieme che cosa sta succedendo nell'applicazione ok c'è scritto da qualche parte adesso adesso ah sì ecco the source code will be open on the teacher's computer ok ovviamente voi potete portarvi il vostro computer per degli appunti qualcosa perché per vostra comodità volete ripassare consultare eccetera però fondamentalmente guardiamo sul nostro computer ok che fondamentalmente sarà poi collegato a un server perché ognuno di voi ha la sua famosa node modus eccetera mezzo giga a testa 100 persone sono 50 giga va bene però insomma comunque ci organizziamo l'abbiamo già fatto e siamo organizzati in questo senso quindi se ci sono dubbi o domande mi rispondo volentieri posso dirvi ancora come ho già scritto però su Slack che quindi il tema d'esame del primo appello esce prima della consegna del Big Lab 2 purtroppo il Politecnico è organizzato in questa maniera nel senso che gli appelli ce li mette dove vuole e dobbiamo adeguarci alle date degli appelli che ci hanno dato però le tre settimane ci sono sempre perché è il tempo che riteniamo ragionevole per sviluppare l'applicazione ovviamente non a tempo pieno diamo tre settimane perché lo sappiamo che avete anche altri corsi di cui dovete preparare l'esame e quindi ci aspettiamo che diciamo in due o tre giorni di lavoro a tempo pieno avendo seguito i laboratori avendo diciamo fatto pratica durante il corso avendo studiato e così via adattando quello che già avete riuscite più o meno ad arrivare ad un livello ragionevole di implementazione dell'applicazione ok? chiaro che se partite da zero probabilmente serve molto di più però se avete seguito i laboratori diciamo questo non dovrebbe essere troppo un problema l'applicazione è un po' più complicata dei laboratori d'altronde c'è solo quello da fare per l'esame perché il resto è una discussione non è che interrogo su chissà cosa ma parliamo dell'applicazione e quindi insomma deve essere qualcosa di un pochettino corposo niente di eccezionale però insomma c'è sicuramente un po' di componenti da implementare questo sicuro un po' di più del laboratorio il laboratorio è pensato per blocchi di un'ora e mezza o poco più ecco ok non mi sembra di vedere domande per cui io andrei avanti vediamo solo sì che tutto stia funzionando e oggi riprendiamo la use effect e finiamo questo blocco di slide e andiamo a finire l'implementazione nel nostro progetto di esempio degli esami aggiungendo le funzionalità di update add e delete che parlino col server ok perché ce l'abbiamo già ma sono locali sul client mi ricordate la use effect l'avete vista in laboratorio prende una callback delle dipendenze un secondo parametro opzionale se non è fornito gira ad ogni render ma diciamo in questo caso un po' di utilità limitata se forniamo un array vuoto che è quello che avete provato a usare in laboratorio gira a una sola volta once dopo il rendering iniziale c'è una domanda è spento il microfono proviamo no un po' di più si è ah ha ragione si è spento perché è finita la batteria ok o forse perché non l'avevo acceso mi sa di se va bene va meglio ok bene allora grazie dicevamo diamo un array vuoto come secondo parametro viene fatto girare una sola volta la callback al mount del componente quando il componente inizia a esistere ed è il caso tipico in cui usiamo la use effect per caricare alla via i dati dal server e poi c'è il caso in cui specifichiamo una lista di dipendenze e allora ogni volta che i valori delle variabili che sono comprese nella lista di dipendenze cambiano verrà chiamata la callback della use effect e questo ci serve per diciamo scatenare delle azioni solamente in certi specifici casi questi valori sono tipicamente o properties quindi passate al componente oppure stati interni al componente ok avevamo visto gli esempi li avevamo commentati questo vabbè le slow response tanto le vediamo quando carichiamo andiamo a vedere come gestire le chiamate api verso il server in react con la use effect allora prima di tutto dobbiamo distinguere tra i vari tipi di stati ci sono gli stati di presentazione che non riguardano il server e quindi sono solo un qualcosa che ci aiuta nella visualizzazione per esempio c'è un menu che si apre e si chiude non ho bisogno di informare il server che il menu si è aperto e si è chiuso è semplicemente uno stato comodo per l'applicazione per scatenare e rendere e quindi chiudere e aprire una lista o qualche cosa e così via quindi non hanno bisogno di essere persistenti stanno di solito solamente internamente al componente e quindi sono implementati con uno stato locale con la use state e poi c'è lo stato dell'applicazione che deve essere ricavato dal server per esempio la lista dei firm la lista degli esami e così via deve essere caricato dal server e deve essere poi anche aggiornato nel momento in cui facciamo delle modifiche ok in generale dovrebbe essere accessibile a molti componenti come avete sperimentato in laboratorio avete questa lista di film c'è la lista dei film ma poi magari ne avete bisogno anche da altre parti all'interno dell'albero dei vostri componenti periodicamente dovremmo andare a verificare se ci sono state modifiche sul server perché questo è un punto su cui torniamo perché le applicazioni web sono per loro natura multi utente quindi noi le sviluppiamo provando sempre solo noi quindi ci siamo solo noi come utenti ma la vostra applicazione soprattutto quella per il progetto dell'esame dovrà essere sviluppata considerando che ci può essere più di un utente che usa l'applicazione ok quindi ci sono delle azioni che avvengono sul lato server non a causa nostra come singolo utente ma a causa di altri utenti e quindi di questo dobbiamo tener conto adesso torniamo diciamo più in dettaglio su questo aspetto quindi andiamo a vedere tutti gli aspetti principali che dobbiamo conoscere per gestire al meglio l'applicazione in questo senso allora manteniamo le api non fai separato questo l'abbiamo già iniziato a fare perché lì dentro facciamo le fetch che serve ad entrare interrogare il server passiamo tutti i parametri necessari alla fetch ci facciamo per esempio ritornare una promise in maniera che possa essere gestita la comunicazione col server in modalità asincrona e così via quindi la cosa migliore è avere un metodo per ogni azione che vogliamo andare a fare sul server poi potete anche mischiare ma chiaramente noi diamo delle raccomandazioni e speriamo che le seguiate più che altro perché speriamo che vi facilitino l'implementazione se fate così potreste anche addirittura fare dei test senza neanche avere il server perché basta sostituire queste funzioni con qualcosa che ritornino degli oggetti finti delle liste finte eccetera potete anche fare qualche piccola prova senza il server quindi isolare l'API è una cosa comoda in generale questa è l'architettura concettuale quindi abbiamo la nostra applicazione React che ha il suo virtual DOM che poi interagisce col DOM vero e quindi fa vedere qualcosa nella finestra del browser se c'è bisogno di caricare qualcosa del server userà le funzioni che abbiamo messo a disposizione scritto noi nell'API che chiamano la fetch che è la primitiva del browser che ci consente di caricare informazioni dal server quindi inviare richiesta HTTP al server usiamo JSON come formato dati e dall'altra parte ci sarà l'applicazione web basata sul modulo express che avrà le route definite get post put delete in cui si va a manipolare il database e si ritornano le informazioni necessarie richieste ci sono due azioni principali che dobbiamo svolgere da parte dell'applicazione quando andiamo a parlare con il server le abbiamo chiamate qui in inglese re-hydrating e de-hydrating quindi re-idratazione e disidratazione quindi è un prendere l'informazione importante dalla nostra applicazione e portarla sul server disidratazione estrarla dall'applicazione react e portarla sul server e al contrario prendere l'informazione dal server e portarla dentro l'applicazione react re-idratazione un po' come quando disidratate e re-idratate qualcosa appunto da mangiare insomma da riportare allo stato originale ok quindi il miglior punto dove fare l'operazione di re-hydratazione soprattutto all'inizio quando caricate l'applicazione è in una use effect che ha come dipendenza un array vuoto perché si viene chiamata la callback una sola volta al mount del componente quindi lo fate per esempio su app in app quando l'app viene montata quindi viene caricata comincia a fare le richieste verso il server e il server vi darà le informazioni per popolare l'interfaccia dell'applicazione non è l'unico momento dobbiamo anche fare in modo che tutte le volte che pensiamo sia importante fare un refresh quindi un aggiornamento dello stato dell'applicazione si vadano a fare queste richieste verso il server caricando i dati perché qualcun altro potrebbe aver cambiato le informazioni ho detto prima è un'applicazione tutte le applicazioni web sono applicazioni multi utente nel senso che possono essere aperte da più browser contemporaneamente da più client contemporaneamente non parliamo necessariamente di utenti di quindi di persone che in user nemmo possono semplicemente di client più client contemporaneamente possono fare azioni infatti finora nel laboratorio non avete utente password nel testo del laboratorio si è scritto fate tutte le azioni con i d1 cioè primo utente però poi nell'ultimo aggiungiamo gli utenti ok ecco l'operazione di idratazione invece prende lo stato dall'applicazione e metterla sul server e capiterà molte volte perché tutte le volte che facciamo delle azioni che vogliamo rendere persistenti queste devono essere portate sul server un'aggiunta un aggiornamento una cancellazione e così via vediamo come come fare per esempio prendiamo la lista questa potrebbe essere la lista dei film ovviamente noi qui non abbiamo il modulo quindi il file API con la fece isolata lì dentro perché se no usiamo 5 slide per questa cosa e non vediamo l'aspetto essenziale quindi qui è tutto un po' abbreviato diciamo che abbiamo un API che con la fece possiamo interrogare prendiamo la risposta in json quindi avremo un oggetto che deriva dalla risposta json e sarà non so un array in questo caso penso si era un array inizialmente come facciamo a caricare inizialmente i dati user effect array vuoto items set list items va a mettere le informazioni in uno stato quelle che abbiamo caricato dal server e poi tutto il resto avviene di conseguenza noi abbiamo aggiornato uno stato react si preoccuperà di aggiornare la visualizzazione noi con la set list abbiamo chiuso il discorso della visualizzazione dell'informazione perché tutto il resto viene di conseguenza ok dobbiamo solo fare un po' attenzione all'inizio nel senso che se la chiamata verso il server è lenta o ci mette un po' di tempo a darci dati ci sono tanti dati da caricare e così via c'è un momento nel quale l'applicazione è già caricata inizia a render ma lo stato è ancora lo stato iniziale quindi lo stato vuoto qui dobbiamo decidere che cosa fare possiamo lasciarla così se ha senso possiamo invece diciamo avere uno stato di servizio che quindi è uno stato ecco questo di presentazione che viene impostato a true all'inizio per dire sto caricando l'informazione e poi una volta che ho caricato l'informazione diciamo questo messaggio questa segnalazione all'utente che sto caricando l'informazione sparisce ok come la realizzo semplicemente per esempio con non so un simbolino una scritta qualche cosa che viene visualizzato o no secondo il valore di questo stato e questo stato verrà messo a falso una volta caricato effettivamente l'informazione dal server ok questo è molto utile per gestire risposte lente perché voi dovete sempre pensare quando un utente interagisce con la vostra applicazione deve capire che cosa sta succedendo ma la cosa peggiore è che avete un'applicazione davanti c'è un'interfaccia mezza caricata e non si capisce se sta funzionando o no è una cosa brutta anche per noi all'esame ora noi abbiamo tutto su localhost abbiamo il server sullo stesso computer abbiamo pochi dati da trasferire e così via quindi questo problema nelle nostre applicazioni di prova se non lo facciamo apposta di solito non si verifica ok però in un'applicazione vera dovremmo tener conto di questo aspetto voi aprite che so facebook aprite twitter aprite non lo so quale applicazioni web prima che vi venga fuori la lista di tutto magari vi viene fuori una visualizzazione temporanea in cui loro sono un po' più carini di noi non mettono una sidera che gira un pallino ma mettono non so qualcosa di finto qualcosa di animato eccetera insomma che dà l'impressione che sta caricando i dati bene questo ragionamento vale anche per le nostre applicazioni in generale ok ovviamente non è obbligatorio anzi all'inizio possiamo farne a meno poi una volta che abbiamo sistemato tutta la funzionalità dell'applicazione eventualmente ci concentriamo su questi aspetti ok una volta che sappiamo anche che qualcosa è cambiato sul server possiamo usare la use effect come abbiamo spiegato in precedenza eventualmente usando anche delle dipendenze quindi è cambiato qualcosa scateniamo una seconda use effect c'è cambiata una lista che so dei corsi ricarichiamo anche la lista degli esami oppure cambiata la lista di esami ricarichiamo la lista di corsi e così via ovviamente dobbiamo avere più cose da caricare no perché se no se ce n'è una sola o quella ho cambiato o no non c'è granché da diciamo da mettere le dipendenze a meno che non siano variabili di servizio che ci servono a scatenare il caricamento come vedremo poi nell'esempio tra poco attenzione perché questa sembra un'operazione banale una volta che sappiamo che qualcosa è cambiato sul server facciamo cioè carichiamo però come facciamo a saperlo il problema è che non lo sappiamo vi dicevo prima abbiamo un'applicazione web che vuol dire che più client possono contemporaneamente operare con lo stesso server quindi non necessariamente utenti qui stiamo parlando di client infatti abbiamo scritto browser cioè appunto il programma che ci serve a visualizzare l'applicazione potete essere anche voi con due browser aperti sullo stesso computer se proprio volete fare delle prove che cosa succede nel momento in cui da un browser aggiorniamo qualcosa sul server sugli altri browser se no facciamo niente non succede niente perché il meccanismo del protocollo http prevede che fino a che uno non fa una richiesta non ci sia una risposta quindi non è il server che può iniziare un trasferimento di dati verso il client siamo noi che dobbiamo fare una richiesta e poi il server ci darà una risposta e quindi noi aggiorniamo il contenuto del client quindi come facciamo lato nostra applicazione a sapere che qualcun altro ha cambiato qualcosa sul server la risposta purtroppo in questo corso non la daremo nel senso che daremo una risposta diciamo così che vi invitiamo ad utilizzare nelle vostre applicazioni ma è semplicemente una specie di cerotto che mettiamo sul comportamento dell'applicazione per cercare di fare qualcosa anche se non è la cosa migliore cioè abbiamo una soluzione che è meglio di niente come dice la slide però a questo punto del corso non possiamo fare diciamo diversamente la soluzione vera ci sarebbe bisognerebbe che il server comunicasse col client non appena ci sono delle modifiche ma questo è fuori dallo scope del corso perché perché ci richiede di introdurre tante tante altre cose che non ci stanno assolutamente in questi sei crediti ok chi è curioso può andare a cercare in rete si possono usare i websocker si possono usare meccanismi publish ascribe e così via esistono questo genere di applicazioni le usate tutti i giorni aprite un google doc aprite queste piattaforme di editing condiviso uno scrive di compare nel browser all'altro immediatamente o quasi quindi c'è un modo per realizzare questa applicazione ma è troppo complicato per noi e non lo facciamo noi ci accontentiamo di una cosa più semplice ossia tutte le volte che ha senso andiamo a richiedere l'informazione aggiornata al server quindi tutte le volte che facciamo un'operazione che coinvolge il server ci facciamo aggiornare la lista dei dati e delle informazioni che sono presenti sul server e ce le facciamo rimandare dal server quindi questo vuol dire che se qualcuno fa una modifica e noi non facciamo niente nella nostra applicazione non succederà niente nella nostra applicazione ma se poi noi facciamo qualcosa che so facciamo un aggiunto una cancellazione un edit qualche cosa che diciamo in cui ha senso puoi andare a verificare se i dati sono stati aggiornati sul server andiamo effettivamente a caricare questi dati perché in quel momento ha senso verificare se effettivamente le informazioni sono state aggiornate quindi diciamo che quando carichiamo una nuova pagina una nuova vista ok mettiamo dei dati che siano aggiornati quindi andiamo a caricare le informazioni del server quando aggiungiamo aggiorniamo cancelliamo qualcosa verifichiamo poi anche solo in questo secondo caso è più interessante perché dobbiamo anche verificare che il server effettivamente abbia fatto l'operazione ma anche lì prendiamo la lista l'informazione aggiornata oppure se proprio volessimo fare una cosa diciamo più più vicina a quello che descriviamo a destra potremmo periodicamente con un timer andare a ricaricar l'informazione sul server ora questo è un caso un po' limite per l'esame in generale a meno che non sia specificamente richiesto non lo non lo chiediamo ok però potrebbe essere una soluzione ogni minuto ricarichiamo la pagina ok quindi diciamo al massimo dopo un minuto abbiamo dell'informazione aggiornata sui vari browser quindi questa non è una soluzione è solo un modo di minimizzare il problema che si può verificare nel momento in cui ho più browser che accedono allo stesso server e tutti possono andare a fare modifiche operazioni sul server ok benissimo quindi abbiamo chiarito questo aspetto mi raccomando stiamo parlando di applicazioni web se uscite da questo corso pensando che c'è solo un client che usa l'applicazione web non dico che abbiamo fallito il corso cioè il senso del corso è sicuramente stato come dire abbastanza limitato le applicazioni web sono applicazioni con più client bisogna sempre pensare in questi termini noi finora non l'abbiamo fatto perché finora ci siamo concentrati sul costruire l'applicazione ma da adesso in poi penseremo sempre in questo senso ok ok prima di andare a vedere come fare effettivamente al meglio le operazioni principali che sono l'aggiornamento aggiunte cancellazione ancora due parole sulla use effect perché la use effect come avete visto è una primitiva cioè una funzione di react molto potente molto flessibile ma anche un po' rischiosa nell'utilizzo si possono fare degli sbagli a qualcuno di voi è capitato che sia andata in loop quindi se voi sbagliate la lista delle dipendenze fatta in un aggiornamento di stato dentro una callback di una use effect e così via che riscatena l'operazione della callback mandate in loop tutto il sistema qualcuno mi ha scritto su slack privatamente c'era un problema oppure è capitato in laboratorio magari ad alcuni di voi perché? bisogna fare attenzione perché nella callback della use effect possiamo fare tante operazioni ma dobbiamo fare attenzione che queste operazioni ad un certo punto abbiano un termine non facciano sempre sì che viene richiamata di nuovo la callback ok? ok quindi ovviamente una condizione di questo tipo fa sì che l'applicazione non funzioni più perché non è previsto che continui a richiamarsi all'infinito perché sarebbe solo occupata a fare queste operazioni senza un senso logico quindi nelle nostre applicazioni non deve capitare e cosa possiamo fare per cercare di evitare questa condizione? allora i casi più comuni in cui capita questo loop sono questi due non abbiamo messo l'array delle dipendenze e questo diciamo è abbastanza evidente nel senso che non è difficile accorgersene mettiamo un'array delle dipendenze quasi mai useremo la useEffect senza array delle dipendenze oppure questa ecco un po' meno comune ma bisogna farci molta attenzione uno degli elementi nell'array delle dipendenze è un oggetto un array un oggetto javascript o un array javascript ok? e questo questo non va bene perché il diciamo la verifica che React fa è basata sul fatto che il riferimento all'oggetto non sia cambiato non va a vedere se dentro sono cambiate proprietà e così via quindi diciamo rischiamo di far funzionare la useEffect in una maniera diversa da quella per la quale vorremmo che funzionasse perché noi se mettiamo un array se mettiamo un oggetto vorremmo che la useEffect fosse richiamasse la callback nel momento in cui qualcosa in quell'oggetto cambia qualcosa in quell'array cambia ok? però se non lo indichiamo esplicitamente diventa difficile per React funzionare correttamente quindi questo secondo caso vogliamo evitarlo il più possibile se abbiamo qualcosa dentro un oggetto dentro un array che deve essere usato come dipendenza lo elenchiamo esplicitamente quindi a qualcuno di voi è successo con props props è il classico oggetto che diciamo ci verrebbe da mettere nella lista delle dipendenze perché perché magari nella callback mettiamo props usiamo un props punto attributo per fare delle operazioni di cui abbiamo bisogno va bene va benissimo si può fare ma non mettiamo props nella lista delle dipendenze mettiamo props punto attributo se ne abbiamo due props punto attributo 1 virgola props punto attributo 2 ok? li elenchiamo esplicitamente gli array invece sarebbe meglio non usarli del tutto perché è molto più complicato perché non sappiamo esattamente cosa c'è dentro ok quindi guardiamo qualche piccolo esempio e poi ci dedichiamo al codice anzi si ci dedichiamo al codice quindi questo è un normale contatore quindi input type test value value quindi un form controlled perché ha il suo stato on change handle change set value event target value quindi niente di speciale il solito form form controlled con un testo inizialmente vuoto ok count set count inizialmente meno 1 use effect callback che prende il valore vecchio e ci aggiunge 1 lo mette nel nuovo stato no ok cosa c'è che non va qui ovviamente ci concentrava sulla use effect quindi questo è uno degli errori tipici ma il più manca il vettore delle dipendenze c'è questo questo a fare non si ferma più nel senso che facendo un cambiamento dello stato nel componente fa sì che poi la use effect venga di non richiamata perché ad ogni rende del componente la use effect viene richiamata ok quindi questo count gira e non si ferma più ok ci manda in loop l'applicazione quindi dobbiamo dobbiamo in qualche maniera mettere una lista delle dipende delle dipendenze cosa mettiamo dipende da cosa vogliamo fare nell'applicazione quel contatore di prima era un valore che abbiamo messo sotto giusto per diciamo fare qualcosa per visualizzarlo qui ovviamente cosa mettiamo nelle dipendenze dipende dal senso dalla logica della nostra applicazione qui qual'era l'idea è raccontare tutte le volte che abbiamo cambiato qualcosa nel form quindi nella casella di testo quindi vorremmo che il numerino sotto si aggiornasse quindi ogni volta che viene scatenata la handle change quindi c'è l'evento change del form vogliamo aumentare di 1 e allora allora ha senso dire che tutte le volte che cambia il valore di value che uno stato venga chiamata la set count c c più 1 ok questo è una possibile uso della use effect in cui abbiamo una dipendenza uno stato va benissimo ok l'importante è che qui dentro non si cambi lo stato perché se nella callback ci mettiamo a cambiare lo stato andiamo in loop però non cambiamo value cambiamo un altro stato e questo va bene perché scambia stato avviene render value uguale a prima non viene più richiamata la callback della use effect ok benissimo ecco oggetti come dipendenze cosa c'è che non va in questo codice quindi è simile a prima no c'è sempre un type text value secret value quindi abbiamo messo un unico stato in cui abbiamo un oggetto con due proprietà value account secrets diciamo similmente a prima ma c'è un unico stato anziché due se scriviamo questo codice lo facciamo set secrets nell'on change quindi cambia qualcosa nel form on change event set secrets s vabbè s value event target value cioè cambiamo il valore di value e lasciamo tutto il resto inalterato ma cosa stiamo anche facendo con questa scrittura stiamo cambiando il riferimento all'oggetto perché abbiamo creato un nuovo oggetto ok quindi qui abbiamo creato un nuovo oggetto creando un nuovo oggetto vuol dire che secret è cambiato ok quindi questa callback anche dentro ha di nuovo un altro set secret e così via fa più uno fa sì che cambi di nuovo il riferimento all'oggetto e andiamo avanti così e di fatto la use effect non si ferma più non smette più di richiamarci la nostra callback questo perché perché stiamo creando un nuovo oggetto ogni volta ok e l'abbiamo messo come lista delle dipendenze quindi ciò non va bene come facciamo ad aggiustare vi dicevo prima se abbiamo degli specifici campi di un oggetto nei quali sui quali dobbiamo vedere se il valore è cambiato o no usiamo quegli specifici campi ok quindi in sostanza diciamo che nella lista delle dipendenze è bene indicare dei valori solo di tre tipi che siano string che siano numeri e che siano boolean tutto il resto non va bene il resto vuol poi dire oggetti array perché funzioni ma funzioni diciamo non non è che andiamo a cambiare delle funzioni ok perché poi i tipi in javascript sono solo questi ok quindi il problema è che se il secret crea un nuovo oggetto e quindi ci scatena la callback della use effect quindi non usare oggetti come dipendenze qui è cambiato qualcosa sì vabbè è cambiato solo value posso metterlo come come dipendenza ok quindi metto ciò di cui ho bisogno come dipendenza e non il riferimento all'oggetto ok stesso discorso vale per gli array gli array diciamo siamo probabilmente molto tentati di mettere gli array anche perché molto spesso i dati che carichiamo dal server sono degli array la lista dei film la lista degli esami la lista dei corsi e così via vabbè se è cambiata la lista dei corsi che c'è di male faccio una callback carico del resto quindi aggiorno i dati dal server c'è di male che se metto come dipendenza la lista non so più cosa può succedere ok perché se poi faccio delle azioni che mi modificano il riferimento non il contenuto ma il riferimento a quell'array perché qualcuno fa una set state e così via succede di nuovo che mi induppo quindi non usiamo l'array ok piuttosto ci facciamo uno stato addizionale apposta che sono boole hanno un qualcosa di questo tipo per far funzionare la user effect se ne abbiamo bisogno oppure possiamo usare delle proprietà dell'array per esempio la lunghezza è cambiata la dimensione di questo array perché è stato aggiunto un elemento avevamo bisogno di fare qualcosa perché abbiamo cancellato aggiunto allora possiamo mettere array.length nella lista delle dipendenze quello è un singolo valore un numero e questo ci sta bene ok ma non mettete riferimento all'array comunque ve ne accorgerete facilmente perché se fate queste cose finisce che vi va in loop l'applicazione mettete un console log dentro la callback della user effect vedete una lista di console log nella console e capite che c'è qualcosa che non va avete fatto una singola azione una lista di di stampe ok oltre che probabilmente nella vostra applicazione c'è qualcosa che non va ok bene abbiamo fatto un po' di discorsi su errori comuni di user effect adesso che sappiamo cosa non fare vediamo invece cosa fare nel momento in cui dobbiamo fare le tre operazioni principali dell'applicazione web che andiamo a fare dopo l'intervallo proprio col codice cioè l'aggiornamento l'aggiunta e la cancellazione no le classiche operazioni crude no create cos'è R non so più cos'è R eh read ecco bravo read grazie update delete ok ma la read è quella che ci crea meno problemi no che la read alla fine non modifica quindi non modificando ci crea meno problema o carichiamo i dati finito invece quando modifichiamo quindi creiamo un nuovo oggetto modifichiamo l'oggetto cancelliamo l'oggetto intendo oggetto nella base dati sul server abbiamo sempre il rischio che l'operazione non vada a buon fine perché perché dipende dall'applicazione no cioè potete dare due volte l'esame di applicazioni web 1 no ok perché se rimanete bocciati sì ma diciamo potete essere promossi due volte sull'applicazione web 1 no perché perché c'è diciamo un vincolo nel database della segreteria per cui il codice del corso di quelli sostenuti da un certo studente deve essere unico nella lista perché non si possono dare due volte le stesse esame rimanendo promossi per e quindi se io cerco di aggiungere un secondo esame con lo stesso codice con un voto uguale o diverso nella lista il database me la impedirà ok però se io non ho previsto questa condizione nella mia applicazione web e vado a richiedere comunque sul server questa operazione fino a che il server non mi dà risposta io non so se l'operazione è andata a buon fine o no cosa faccio nel frattempo nell'applicazione questo è il problema che faccio cosa faccio vedere all'utente posso decidere niente è l'operazione più semplice nel senso che non do alcun feedback prima o poi ricarico l'informazione dal server quindi leggo leggo la lista degli esami se è venuto fuori il nuovo esame vuol dire che è andato tutto bene se non è venuto fuori non è andato bene ok questa è una possibilità ok però diciamo non è sicuramente la condizione migliore perché nel momento in cui io vado a chiedere di fare delle modifiche sul server lascio l'utente in sospeso senza dare alcun feedback fino a quando l'operazione non si è conclusa no è un po' come quando pagate qualcosa online mettetevi dati la vostra carta di credito fate paga clic l'operazione non è immediata ci vuole qualche secondo prenotate il posto sull'aero sul treno comprate un oggetto e così via l'operazione non è immediata cosa fate dopo che avete cliccato il bottone se no vi danno un feedback non sapete più cosa fare non sapete neanche se avete cliccato no diciamo se avete cliccato bene diciamo la decenza direbbe almeno disabilita il bottone in maniera che non si possa premere una seconda volta per sbaglio ok però diciamo una interfaccia ben fatta ci farebbe comparire un attendere qualche secondo oppure aspetta un attimo sto processando la richiesta e così via poi quando ho una risposta del server do effettivamente la risposta la transazione è andata a buon fine ecco la lista dei posti prenotati e così via ok quindi abbiamo questo problema in un'applicazione web che vuole essere ben fatta tutte le volte che andiamo a fare un'operazione sul server che va a modificare dei dati quindi aggiornamento aggiunta o cancellazione perché non sappiamo come va a finire per mille motivi vi ho fatto prima l'esempio della chiave che esiste già potrebbe essere che voi come utente non abbiate il permesso di fare l'operazione potrebbe essere non lo so che il server è pieno se state caricando un nuovo file il server è pieno non avete usato troppo spazio e così via mille motivi possono mandare in come dire in errore l'operazione che chiedete di fare al server quindi dobbiamo decidere che cosa fare ok noi lato client potremmo anche fare finta che l'operazione sia già andato a buon fine oppure stia andando a buon fine questo è il cosiddetto optimistic update che ovviamente è un po' rischioso però è un possibile approccio nel senso come avete fatto finora lato client volete aggiornare un film il titolo di un film si può fare una volta che fate il click si tratta di aggiornare lo stato locale dell'applicazione non ci va niente l'avete fatto nel primo laboratorio ancora nel primo big lab stessa cosa per le altre operazioni però sto assumendo che tutto vada bene cioè cosa faccio se poi sul server non va bene l'operazione perché non hai permessi per qualsiasi motivo questo è rischioso ok è un possibile approccio e poi adesso veniamo ad una possibile soluzione oppure lo stato è aggiornato solamente dopo che abbiamo verificato che la richiesta ha avuto successo questo è l'altro posto mandiamo la richiesta e poi aggiorniamo lo stato una volta che tutto è andato bene quindi ricarichiamo che sono la lista dei film la lista degli esami e così via dopo che abbiamo una risposta del server così abbiamo lo stato aggiornato qual è il problema di questo approccio il primo era rischioso perché facciamo vedere una cosa che effettivamente non è ancora avvenuta quindi potrebbe non essere poi così qui invece il problema è che non facciamo vedere qualcosa mentre l'operazione sta avvenendo quindi l'utente non ha un feedback non ha una diciamo la percezione del fatto che l'operazione è in corso ok voi fate aggiungi clic e non succede niente perché perché per qualche motivo il server ci mette due tre cinque secondi per ricaricarvi la lista aggiornata l'utente poco paziente come tutti e quindi cosa fa magari riaggiunge comincia a fare pasticci perché perché non ha capito che deve semplicemente aspettare ok quindi dobbiamo decidere che cosa fare il caso di prima era lo facciamo direttamente noi però siamo un po' troppo ottimisti cioè nella ad item abbiamo fatto subito set aggiunto come se fosse aggiunto e poi caricheremo alla fine ma se tutto è andato bene non cambia niente nella lista in questo caso invece ci aspettiamo l'ok dal server però l'aggiornamento avviene solo dopo no il response ok setlist nel frattempo non succede niente non aggiungiamo riusciamo a trovare una via di mezzo la via di mezzo che vi consigliamo è questa mentre facciamo l'operazione lo stato che noi possiamo aggiornare immediatamente lato client lo segniamo in qualche maniera come uno stato temporaneo con un colore con una scritta con un qualsiasi cosa che vogliate basta che date un feedback all'utilizzatore che questo stato è temporaneo una volta che avete la risposta dal server metterete lo stato definitivo quindi questo colore icona scritta eccetera sparirà sovrascritta dallo stato definitivo caricato dal server ok quindi nell'esempio di prima add facciamo un add quando aggiungiamo l'elemento nella lista lo aggiungiamo ma adesso qui per semplicità abbiamo scritto temp proprio una stringa di fianco a questo elemento che poteva essere non lo so il titolo del film o qualsiasi cosa basta che da qualche parte si veda questo questo elemento grafico che ci dice attenzione ho fatto ma è in fase di consolidamento in fase di accettazione e poi una volta che ho finito quindi l'operazione ha avuto successo se tutto ha avuto successo faccio il caricamento dei dati così come sono stati aggiornati dal server questo get items alla fine andrà a caricare i dati del server e imposta lo stato per cui verrà sovrascritto lo stato della lista e automaticamente il tempo sparisce perché ci sarà l'oggetto così come caricato dal server che non ha ovviamente più scritto tempo ok quindi aggiorniamo lo stato locale dell'applicazione in parallelo così che l'utente possa vedere se l'operazione è completata oppure no all'inizio non sarà completata e poi dopo un po' si completa no perché perché alla fine completo facendo il refresh dello stato cioè caricando tutto dal server ok quindi questo conclude un po' il discorso su come gestire l'interazione con il server nel momento in cui andiamo a fare le operazioni più difficili cioè l'aggiornamento l'aggiunta e la cancellazione perché sono quelle le operazioni difficili il caricamento dei dati non è difficile cioè o avviene avviene quando sono caricati li mostro oppure non è avvenuto e non ho niente da mostrare ok quindi quando ho da fare le operazioni quelle che noi abbiamo chiamato di deidratazione e reidratazione cioè riportare lo stato dal client al server oppure dal server al client devo fare attenzione la cosa migliore nelle nostre condizioni in cui non possiamo avere l'aggiornamento immediato come abbiamo detto prima e quindi tener sempre sincronizzato client e server possiamo solo fare così questa è la cosa migliore che possiamo fare ok direi che magari guardiamo ancora ci sono 4-5 slide sugli hook e concludiamo questo discorso così poi facciamo intervallo e dopo ci dedichiamo esclusivamente all'applicazione quindi facciamo come sempre l'esempio di quello che dopo domani in laboratorio andrete a fare cioè l'aggiunta dell'aggiornamento aggiunta e cancellazione dei film nella vostra big lab quindi dico ancora due parole sugli hooks giusto perché concludere il discorso sugli hooks perché abbiamo visto sostanzialmente tutto quello che ci serve degli hooks ci sono tantissimi hooks ma quelli che servono li abbiamo visti cioè lo use state la use effect e poi la use context se avete bisogno del context ma di per sé vabbè ci sono gli altri due il param e il navigate per diciamo gestire la navigazione ma quelli fondamentalmente ci danno semplicemente una variabile che usiamo come informazione quindi non è che sono particolarmente interessanti come fanno funzionare gli hooks in particolare la use state vi siete mai chiesti come funziona la use state di react lo chiudiamo non tanto per andare a vedere com'è fatta ma più che altro per evitare di usarla nella maniera sbagliata com'è che ad ogni esecuzione la funzione otteniamo nella variabile di stato il valore corretto che è diverso da ogni esecuzione la funzione come fanno questi valori ad essere persistenti cioè mantenere il valore stesso tra chiamate diverse della stessa funzione react ci chiama la funzione di componente ogni volta la use state ci dà un valore differente cioè l'ultimo valore che era contenuto in quella variabile dove l'ha messo come va a tenerselo ok adesso diciamo come fa più che altro per evitare di usare male questi hooks ci sono c'è una piccola regolina da conoscere per evitare di usarli male allora la risposta è semplicemente che react associa ad ogni componente un array di slot di caselline in cui in ogni casellina c'è un hook ok quindi sa di che tipo hai hook per esempio in questo caso sono tutti hook di stato e lì dentro ci mantiene anche l'informazione queste caselline sono gestite da react sono immagazzinate in maniera permanente sono associate al componente e quindi tutte le volte che react chiama un componente si va a recuperare anche queste caselline questo array di hooks di slot di hooks che sono associate al componente e quindi la prima volta che noi chiamiamo useState nella funzione del componente react va nella prima casellina dell'array degli hooks di quel componente e va a recuperare le informazioni quindi ci imposta il valore della variabile dello stato all'ultimo valore che c'era è stato messo lì dentro e poi ci dà la funzione per poterla modificare e così via per gli altri ok ogni volta che chiamate un hook un nuovo slot viene utilizzato si parte dall'inizio indice 0 indice 1 indice 2 eccetera ok questo significa che gli hook devono essere sempre chiamati nello stesso ordine ogni volta che fate render del componente ok questa è la cosa a cui dovevamo arrivare ovviamente questo esempio è banale cioè è ovvio che è così ma potrebbe non essere ovvio se per casa qualcuno di voi venisse in mente di mettere una use state dentro un ciclo dentro un if e così via ok perché perché a seconda del flusso di esecuzione della funzione finisce che chiamiamo non chiamiamo la use state e questo non va più bene perché perché react non ha la mappatura col nome della variabile ok ma semplicemente sa semplicemente che questo è il primo che è stato chiamato questo è il secondo e questo è il terzo se scombiniamo l'ordine di chiamata delle use state e diciamo confondiamo react e il valore sbagliato andrà a finire nella variabile sbagliata ok questo perché gli ux appunto sono semplicemente un array di caselline di slot come dicevamo prima che sono associati alla funzione che implementa il componente ok allora per non sbagliarsi qual è la raccomandazione chiamare sempre gli ux in particolare la use state all'inizio della funzione use state use effect perché così non abbiamo ancora scritto codice e il flusso è lineare primo secondo terzo quarto e così via ok questo tra l'altro vi spiega anche il perché quando andate a debagare l'applicazione col debugger di react negli ux vi viene scritto primo stato secondo stato terzo stato e non vi viene fuori il nome del look a meno che non paccioccate deve esserci un qualche meccanismo per dargli un nome però è di debug non è per farlo funzionare perché perché si basa semplicemente sull'ordine e voi riconoscete lo stato da quello che ci avete messo dentro sostanzialmente ok poi lo vediamo quando abbiamo l'applicazione aperta quindi in parole povere ultima slide regole per l'utilizzo del look adesso che abbiamo capito come funzionano come lo usiamo e così via chiamate sempre solo gli hook al livello più elevato della vostra funzione cioè nel codice della vostra funzione senza essere entrati in altri in altri flussi di esecuzione non dentro gli if non dentro i for while e così via quindi non dentro un loop non dentro condizione non dentro altre funzioni annidate sempre a livello iniziale quindi nella parte iniziale del codice della vostra funzione così state tranquilli ok chiamate gli hooks sempre e solo da dentro i componenti ok se per caso doveste scrivere il codice al di fuori dei componenti cosa che vi sconsiglio ok perché perché noi non ne abbiamo bisogno quello abbiamo abbiamo fatto una volta con il fake exams fake films ma perché diciamo dovevamo di per sé poter anche essere portato dentro però ne avevamo bisogno temporaneamente ma in generale non abbiamo bisogno di scrivere il codice al di fuori dei componenti quindi non chiamate hooks al di fuori del codice dei componenti perché poi React non sa più a che componente associarlo quindi gli hooks si possono chiamare da dentro le funzioni che implementano i componenti all'inizio non dentro if non dentro loop non dentro le funzioni e l'unico altro punto dove potete chiamarli è dentro i custom books cioè gli hooks che potete creare voi che però di nuovo è argomento al di fuori di questo corso ci dispiace lo diciamo tante volte però non possiamo fare tutto avessimo avuto un corso a 12 crediti avrei fatto solo più questo altri corsi però e non allora potevamo approfondire molto di più ok se qualcuno li vuole usare perché già usava reate li piace si vuole divertire liberi di farlo non è assolutamente richiesto per l'esame ovviamente non li abbiamo spiegati però lo fate a vostro rischio fate attenzione in generale chi lo fa sa quello che sta facendo e quindi di solito diciamo non ha il problema di far funzionare l'applicazione ok però noi l'abbiamo detto solo per completezza il discorso finisce qui per tutti gli altri funzioni ux all'inizio come abbiamo sempre fatto nelle funzioni la prima cosa che mettiamo è app la prima cosa che mettiamo è una use state e finisce lì ok se ce ne sono di più tutte lì e abbiamo risolto il nostro problema è facile non non confondersi ok io direi che visto che dopo appunto ci resta solo più da fare l'applicazione quindi farla andare ovviamente è già sul git quindi se la volete utilizzare vedere anzi prima di usarla è già lì se no facciamo pausa quindi andiamo a vederci andiamo vi faccio vedere dove è ho fatto week 12 eh andiamo a lavorare su questa e ci aggiungiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno ok facciamo pausa se avete dubbi o domande io sono qui nell'intervallo se no dieci minuti e riprendiamo grazie a tutti grazie a tutti